stop fermo queste sconvolgenti immagini che state vedendo sono ciò che è accaduto a pisa oggi un dirigibile stava trasportando una nave da combattimento con sulla fiancata inciso spqr ti chiederai perché il perché è world of warship un fenomeno mondiale world of warship è un videogioco di combattimento navale a squadre con tre tipologie dermamente abbiamo l'artiglieria i siluri e gli aerei incredibile pensate più di 650 navi ovviamente storiche 13 nazioni e 45 queste navi appartengono al nostro bellissimo bel paese perché è il paese quindi bellissimo dante alighieri francesca caracciolo vittorio veneta e cristofera colomba ci hanno ficato dentro pure materazzi che doppia l'ufficiale di comando perché ufficiali pronti la battaglia comincia ci sono ben cinque classi di navi differenti il caccia non ce la farò mai il caccia torpediniere gli incrociatori le corazzate le portaeri e i sommergibili ed ogni classe ovviamente a un fashion differente e garantisce un'esperienza di gioco estrema pensate poi che il gioco offre una grafica mozzafiato soprattutto quella dell'acqua essendo un gioco di battaglie navali zone portuali reali tra cui la nostra bellissima taranto e condizioni meteorologiche mutevoli che influenzano la tua partita le navi sono progettate sulla base di documenti storici risalienti al ventesimo secolo pensa un po te il gioco ovviamente in continua evoluzione ogni mese ti aspettano nuovi contenuti come ad esempio le collaborazioni con altri giochi o con materazze sotto il mio comando navigheremo attraverso il caos e ne usciremo vittoriosi eventi speciali per le feste nuove missioni e battle pass non ti annoieranno mai quindi assicuriamoci di essere sempre presenti nel mondo di world of worship ho detto world of worship e ovviamente potrei invitare i tuoi amici oppure cercare un clan dove trovare i tuoi nuovi amici tuoi nuovi compagni d'arma perché c'è più gusto ad affondare insieme e se utilizzi il nostro bene amato link che trovi qua sotto in descrizione potrai accedere a uno starter pack incredibile così parti a c***o duro che lascia fare fidati fidati utilizza il link che c'è qua sotto world of worship battaglia navale spostati bestie bestiace bentornati incredibile ma vero stasera che è un giorno di festa la festa dei lavoratori lavoriamo incredibile oggi facciamo un horror night per più in canale a quello che è il lavoro italiano il pizzaiolo il pizzaiolo la pizza che è il nostro patrimonio culturale esportato in tutto il mondo anche se in realtà è nata in asia in africa in america a quanto pare secondo recenti studi ma non in europa è nato ovunque tranne che lì quindi dobbiamo dobbiamo accettare questa cosa ma noi l'abbiamo fatta meglio un po come è stato il caffè che è nato in america ma l'hanno fatto poi in asia e in africa e poi siamo arrivati poi è arrivato in europa incredibile allucinante ragazzi allora viva sì viva l'egitto a prescindere eccoci qua dunque d'altronde la patria della pizza la francia ci insegna che sostanzialmente un uomo quando è un bravo uomo lavora la farina come lavorerebbe la schiena di una donna e ne crea arte oggi ragazzi giochiamo a tonis che vuol dire da toni al ristorante di toni infatti ci facciamo una bella pizzata insieme serviamo i clienti nel mentre nel mentre che facciamo il nostro turno di lavoro qualche entità qualcosa ci perseguita a descrizione del gioco c'è scritto questo è una donna con lei che ci perseguita è una donna un demone donna ovviamente ovviamente denominato demonji patongi come state tutto bene eh la pizza kebab patatine e funghi cristo cristo spoiler no spoiler un cazzo lo dice lo dice c'è sulla pagina di stima io non centro niente salve salve sì sì stiamo bene stiamo bene stiamo bene io e le mie molteplici personalità ormai mi sto desensibilizzando all'horror quindi ragazzi preparatevi perché non avrò assolutamente paura di niente e stasera eh trionferemo le forze del bene trionferanno trionferanno come al solito d'altronde detto ciò abbiamo il tigidino come di consueto e poi ci si butta su eh i saluti e poi giochiamo va bene perfetto intanto ringraziamo il nostro sponsor istan gaming che ce lo siamo dimenticati ma è sempre lì che ci osserva eh come gli occhi di dio eh mi raccomando se volete i giochi come ad esempio tonis al 90 per cento di sconto dal 10 al 90 per cento di sconto lo trovate nel nostro solo nel nostro link che trovate in descrizione basta scrivere il comando istan gaming e voilà et voilà che è quello che dice un pizzaiolo dopo che ha fatto la pizza perché perché è nata in francia la pizza si sa e da lì si può ottenere qualsivoglia di gioco dai giochi indipendenti ai giochi tripla che stai aspettando usa il nostro link altrimenti da adesso in avanti tutte le pizze che mangerai saranno scondite e crude e le digerirai male quindi mi raccomando mi raccomando va bene dino hai voglia di pizza no ragazzi io sto per dirvi una cosa che potrebbe scuotere le fondamenta della realtà la pizza non è un alimento che mi piace o finalmente lo possiamo dire possiamo liberarci di questo peso ci siamo mi sento più libero mi sento più leggero mi sento più leggero la pizza non è un alimento che non mi piace c'è un alimento che mangio quando non devo scegliere che cosa di mangiare veloce sinceramente quindi non perché la faccio io ordino la pizza ma non è un alimento che mi piace e soprattutto non mi soddisfa c'è nel senso che non mi soddisfa mai a volte a volte magari un po crudina a volte troppo croccante a volte troppo alta a volte troppo bassa a volte non si lancia bene queste cose di questo genere buono la pizza vedi non ci siamo capiti non penso che la pizza sia un cibo penso sia un antipasto e pane con sugo la bruschetta più buona della pizza per me per me sono gusti personali sono gusti personali sono gusti personali ovviamente meglio i tortellini a vita però vabbè lasciamo perdere che rimanga tra noi gli altri non capiscono ma che ho sulla barba ah è saliva ottimo ottimo qual è il tuo cibo preferito tortellini i cappelletti la pasta fresca in generale ragazzi la adoro seguita da un buon sugo dal brodo ovviamente da queste cose qui mi piace mi piace l'unione della carne della pasta che sono le uniche due cose che dovremmo mangiare 24 ore su 24 per una sana costituzione le lasagne anche mi interessano la pasta in generale è un alimento che mi piace solo però solo però si è accompagnata dalla buona compagnia della solitudine ovviamente si intende la buona compagnia della solitudine saper mangiare in pace ravioli eccezionali ragazzi eccezionali il kebab non mi piace perché non che non mi piace al gusto ma non riesco a digerirlo ragazzi ormai non digerisco più un cazzo quindi il kebab tanto meno e quindi insomma sai cosa mi piace il toast del mcdonald eccoci qua questo sono io ma d'altronde sono quello che sono e mi amo così per questo allora bestia c'è attenzione perché le notizie di stasera potrebbero sconvolgervi tra l'altro vi ricordo che i ghost fucker si stanno lentamente avvicinando a voi in maniera abbastanza repentina anzi abbastanza subdola e bastarda nascostila io andrea e il bondaxin esploreremo questo luogo che ha diciamo come atmosfera come come incipit come mood principale quello della religione un luogo religioso esploreremo questo luogo alla ricerca del del paranormale questo luogo abbandonato si intende ovviamente non posso darvi ulteriori dettagli lo farei se potessi forse lo faremo verso la fine della settimana dobbiamo vedere un attimino ragazzi un po come va per creare giusto quell'hype che serve esploreremo questo luogo ovviamente noi tre i ghost fuckers pronti a tutto per la scienza del paranormale nel mentre mi sto guardando film come the conjuring e tutta la serie di insidious per poter prepararmi al peggio no in realtà ragazzi quelli sono i film i ghost fuckers sono realtà quindi mi raccomando mi raccomando trovate già le prime tre puntate su youtube disponibili sul vostro canale sul vostro digitale terrestre che state aspettando se non le avete ancora viste mollate questa live subito e godetevi uno di questi episodi nudi sul vostro divano mi raccomando in un abbraccino grazie 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 mille o vuoi un abbraccio non lo posso dare c'è l'impedimento della telecamera grazie daxin per aver messo il link di youtube allora buttiamoci con questa nuova avventura ossia la conoscenza sigla vi è un gioco che sta per uscire con le funko e sapete una cosa posso dirlo posso dirlo non mi piacciono le funko pop o finalmente mi sono tolto questo peso dallo stomaco però attenzione qua probabilmente molti di voi concorderanno con me che sono solo stupida plastica concettualmente e che li possiamo definire come tutti uguali solo che cambiano le capigliature il colore della loro pelle sostanzialmente basta per uscire un gioco che sarà multiplayer e guardate ogni singolo personaggio è uguale all'altro quindi mi fa schifo tutto ciò non li sopporto non li ho mai sopportati non ho mai capito perché la gente disposta a spendere dai 7 ai 32 euro per una statua di funko pop ci sono secondo me dei collezionabili molto più belli che vanno a riprendere la cultura pop però e d'altronde è un buono spreco di plastica conseguendo poi attenzione per attenzione un'altra notizia che potrebbe farvi ecco come dire tremare a quanto pare si è stilato una classifica delle città che vorremmo vedere su fallout 5 e scopriamo con ribrezzo che non vi è tra queste bustarsizio purtroppo no però ragazzi eccoci qua new orleans seattle poi abbiamo new york city seattle poi abbiamo chicago seattle san francisco e poi infine seattle devo dire che non mi interessa no voi non dovreste vedere questa schermata devo dire che non mi interessa non mi interessa assolutamente nulla altra notizia il primo gioco di batman arkham che sta per ritornare nei nostri dispositivi multimediali indovinate un po voi che solo stavate aspettando beh non lo potete giocare perché un gioco vr è un'esclusiva ora io mi ricordo un gioco che era uscito per playstation dove si pubblicizzava il vr e nella pubblicità c'era questa canonica frase diventa batman e si vedeva il bambino che si metteva il visore e diventava batman il bambino aveva all'incirca tanti anni quindi effettivamente ci siamo è successo ve la ricordate la pubblicità del primo vr per playstation si vedeva la tipa il tipo che si mettevano il vr iniziavano a giocare lei si metteva il visore diventava loi e poi a caso c'era lui che si metteva il visore anziché diventava un'esclusiva playstation diventava batman e la voce fuori campo fuori fuori sincono diceva diventa batman e lui diventava batman è allucinante faccelo vedere non lo so ragazzi dove cazzo sta ma non mi interessa andatevelo a cercare voi fatto sta che se vi dico che è così è così fidatevi al cento per cento sta per uscire un film su beavis and the butterhead che non so se li riconoscete sono una un cartone animato ormai che c'è da una vita interpretato da ryan gosling e il nostro amato non so chi cazzo sia l'altro non mi interessa però mi faceva ridere la somiglianza coi personaggi serie che tra l'altro rimane abbastanza popolare in america qui in italia è conosciuta però non ci interessa i call of duty vabbè i codderini se possiamo definirli così i fan di call of duty pensano che il prossimo showcase di microsoft che si terrà a breve potrebbe essere annunciato un nuovo call of duty o per la precisione un black ops 5 la mia domanda ma non era già uscito black ops 5 ma non siamo arrivati al 7 all'8 non ci sto capendo più un cazzo quindi vabbè ultima notizia ragazzi quella che state per vedere è una crema per radersi un dopo bar non un dopo barba proprio la schiuma per radersi che però ha diciamo uno scopo gastronomico quindi la si può utilizzare a livello gastronomico da mangiare ora attenzione non è specificato se la devi usare questa schiuma dopo esserti rasato o prima concettualmente prima perché dopo poi avrà quel quel no quel sentore quel pizzicorio vabbè vediamo insieme forse il video ci spiega meglio ovviamente sono dei francesi quelli che l'hanno fatta sembra un formaggio vero che schifo ovviamente da tagliarsi con un rasoio una lama piatta vedete poi la mettete lì sarà fatta col burro è perfetto c'era già un pelo dentro buono sai che delizia sembra cioccolato bianco non farlo a pensavo stesse per berla a una certa lo farà ne sono abbastanza sicuro ok ma dov'è in un ristorante e a questo punto è un ristorante un barbiere perché ha degli e della strumentazione da cacciatore di fantasma che sta succedendo ok e poi che succede sembra buona effettivamente la schiuma per la barba sembra buona cioè ammettiamolo sembra buona vai che fa la mangia c'è un pelo che fa la mangia quando è che la mangia la mangerà sto perdendo sto perdendo quanti minuti della mia vita un minuto e tre come cazzo ti permette mi ha silenziato però che fa la mangia la mangia mangiala porco due porco due mangiala per favore è un minuto e trenta che sto aspettando che tu ti metti in bocca qualcosa che non trovesti che fa che fa sta facendo la barba alla tazza non l'ho mangiata ma allora ma ma mi hai menti amore ma mi hai detto che era gastronomica che se la mangiava la schiuma da barba non se l'è mangiata tu hai detto c'è una schiuma da barba gastronomica e io ho detto cazzo allora se la mangiano ma se la mangiano prima o dopo averla utilizzata perché dopo ci saranno i peli farà schifo non mi hai risposto chi taccia consente scusami ma cosa vuol dire ci siamo tutti siamo tutti dei disillusi bastardi qua in chat a capire che cazzo succede vabbè ragazzi mi dispiace le fake news però siamo qui per questo siamo qui per questo ovviamente la colpa è solo sua sta facendo la barba alla tazza ma che senso ha scrivere scrivere schiuma gastronomica se poi non te la infili nell'orifizio o no c'è gente che c'è i peli sulla lingua quindi forse è possibile che quella quella schiuma serva a radersi la lingua non lo so però giusto compriamola e testiamola che dite proviamo io me la sarei mangiata e fin qua non ho dubbi non ho alcun dubbio top fake grazie mamma segnala qual orifizio quello dentato il culo allora ragazzi vi saluto e partiamo dai dopo questa triste triste notizia che ciò che sembrava commestibile non lo è giallo ale ambretta pixie dragon dio 101 bronzo 91 unity il dio del tuono unity nome utente unity simone card captor paola sara unity garold astrea costo costo leo let costola poi chi altro il soralella i'm toots ellie il dieguito credibile e ue grande patatone come stai oggi ho un prurito intimo india lollo only chan caffè caldo 100 188 28 38 38 non sono un codice ma nessuno l'aveva in dubbio l'ha messo in dubbio questo piatto blu andrea cop tv farima the python 91 federico fight venus 000 flaming bag bomberissimo sabri calamaro usole pazzerelle pazzerelle sto punto immagino questa live è per te sulla pizza poi abbiamo i piedini di dino è l'ultimo ma non ultimo chi è l'ultimo degli ultimi che non ha utilizzato la farina integrale ma la farina di tipo 00 per il suo impasto e adesso non riesce a digerire chi è l'ultimo degli ultimi sta per diventare un bit questa questa mia è ottimo ottimo il kebabaro 1 ci sia sempre a livello culinario ci stiamo grazie mille bestiaccia benvenuto alla casa del signore che gentilmente oggi ci ospita per una rimpatriata insieme una bella pizzata allora adesso ragazzi qua lo dico io non trovo senso che esista la rimpatriata slash pizzata in ordine dell'asilo delle elementari delle medie del liceo dell'università quel periodo della nostra vita una volta finito va dimenticato e io non ti voglio mai più vedere ti ho conosciuto beh non è perché l'ho voluto ma perché mi ci hanno costretto quindi da quel preciso istante in poi che caccio il piede fuori dall'istituto tu non esisti più andiamo avanti con la nostra vita è stato un piacere abbiamo tutti da fare non mi interessa detto ciò questo messaggio un po per tutti è quelli che me lo chiedono bentornati lo dico perché purtroppo la pizza viene erroneamente utilizzata come mezzo per per ricollegarsi riunirsi e piombare in quella malinconica depressione che non capisco non capisco proprio il senso però vabbè ragazzi facciamo finta di niente sapete cosa mi piacerebbe fare in quei casi fare il trick che ha fatto papa francesco prendi la tovaglia e la tiri sotto e tutti i piatti rimangono perfettamente dove erano la pizza ad esempio le tovaglie le posate il bicchiere io vorrei farlo però sbagliare e distruggere la tavolata ribaltare completamente tutto e qualcuno che ha preso una bevanda calda magari si ustiona può capitare può capitare giochiamo ad tonis da toni gioco horror sulle pizze non c'è altro modo per per descriverlo ragazzi oggi respiro a tratti vai questo fa gioca ci siamo dovrei aver abilitato tutto basta non andare dipende se continui a chiedermelo sono costretto a venire per farti del male cioè concettualmente parlando è si tratta di stalking una certa uno si deve anche difendere guarda questa musica che è successo ma basta con stoccatura schermo ok ok at tonis eccoci qua sviluppato con aria l'engine 5 credo in necessario non è non era proprio necessario utilizzare la real engine per un gioco sulle pizze però guarda che roba la musica eccezionale ma partiamo che stiamo aspettando new game da toni sono molto loading tip coffee is very tasty ora ragazzi si presuppone che un gioco sulla pizza sia doppiato in inglese no assolutamente che succede allora possiamo muoverci con walk e con waz possiamo usare il culo del mouse scritto come the mouse button per interagire con il mondo e tasto sinistro per pick up per avere una macchina un furgone e per interagire e tasto destro per drop item per droppare una canzone va bene a micchia ma è eccezionale la grafica è eccezionale e cese a non posso correre perché lo faccio in continuazione ma è qui dove dormo sono piano di sopra perché mi sembra avrei detto italo americano il protagonista invece no mi sembra più che altro inglese la è vero a un non so che di inglese ma abbiamo nostro computer devo farmi un caffè ma prima una bella sigarettina non si può fare perfetto abbiamo qui una baguette caffè a coffee machine empty dov'è il caffè quale cazzo è questo quale diavolo è il caffè cos'è questa la soppressata perché la metto nella macchina del caffè se volete non funziona molto bene oh ma che col tasto e posso perché posso chiudere le palpebre in questo modo quali sono i tasti di grazia controlli e dove controlli grafica audio controlli non si non lo sapremo mai vabbè f forse non va allora deve essere qua il caffè da qualche parte è questo dove cazzo è il caffè ragazzi i should make us a un coffee ma chi a me a caffè brand coffee eccolo qui che sono ci manca ovviamente la tazza sarà qui no no eccola qui perfetto buono madonna mia e come piace a me americano sporco aspettate che richiudo qua se no poi mi sento dire che non metto mai a posto c'è qualcosa di sbagliato ah no qua non ha lanta bollente ah sì dovrei cercare il mio è le mie mail prima di partire ma nessun niente pisciata niente nessun 30 40 minuti perse a guardare il telefono no è malsano tutto ciò è malsano tutto ciò ah però va che bel bagnetto ragazzi mio tio un loculo funziona la doccia no beh però è molto elegante il water devo dire che è proprio un trono da signore sono felice sono felice qui invece abbiamo niente non possiamo fare nulla telefono con la quale non possiamo interagire controlliamo le mail ma la chitarra suona vero no computer mailbox mike caldo jimmy falco e y2k che cazzo è usi floppy disk e cd rom ma non mi interessa whatsapp caz ci chiamiamo caz bene time for another legendario night shift at the pizzeria i know i know is that the night line is a land out don't say but there's some fabbolo swan travel sprinkle phone just chapel hats which kitchen web order will pop on the computer vabbè ci comparirà l'ordine sul pc e noi faremo la nostra pizzeria e pizza seguendo la 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 ricetta it's in the morning you got this letter jimmy va bene e mike caldo invece ci dice hey joey ma non ci chiamo cazzo i hope you're doing well there's something on my mind that i've been waiting to talk about you i never think about a pizzeria job and honestly i feel like a bit in easy patina speciale vabbè non volevamo fare il pizzaiolo ah è il nostro padre che ci parla non crede in noi perché insomma important for... che che è? no note vabbè note per prima di tutto cosa cambiare lavoro ok che cazzo ma che è sta roba quante note ho? calculator allora quanto quanto intendo uno più uno fa due pizze due pizze in faccia si qui si spegne il pc qui console all right have just been invited ma non sto capendo un cazzo brightness ma che succede vabbè buono e adesso me ne va me ne va lavoro i should check through the p p p hole first peep hole for ma che cazzo vuole che pisci sulla porta mi sa che cazzo cambierà lavoro bene siamo già perseguitati è una pessima pessima idea è una pessima pessima idea è una è una pessima pessima idea è una pessima idea ok ok si non chiudo la porta di casa siamo in canada credo maria santa che spavento così vi voglio vi voglio più italiani possibili pub the people è una delle pizze più utili ci diamo una mossa? non è che devo veramente chiudere la porta di casa? aspetta chiudi la porta un attimo un attimo non la posso chiudere? ah si è fatta toh visto? è incredibile ragazzi è incredibile per niente claustrofobico questo post ok ok che piano siamo all'otto? all'ottavo? ma io dove devo andare? che io ho premuto uno a caso non so se devo scendere o salire metti che siamo dentro un hotel un motel e la pizzeria è all'ultimo piano chiedovenia perdonatemi maron l'ansia è un ottimo nome per un ristorante eravamo al nono? no col cazzo col cazzo io soffro di vertigini ragazzi oltre il terzo piano non ce la faccio fort shift che vuol dire prima merda napoli ah infatti queste sono le famosissime colonne di napoli eccoci qua ok 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 cos'è il dough? ma ho capito vabbè qualcuno quando qualcuno fa ok c'è il menù per dirci cosa dobbiamo mettere nelle pizze ok vabbè quali storie su Tony? che è successo qua? pick up the dough tray in the kitchen vabbè non so che diavolo sia non sia sostanzialmente mamma mia pizzeria chiudete gli occhi chiudete gli occhi e assaporate per un istante la magia dell'Italia eccoci qua ragazzi questo è come mamma mia ma non c'è niente fuori ma siamo fuori di testa ma è cattivissimo mamma mia pizzeria autentic Italian restaurant mamma mia il ritorno di Kevin e non lo so eh non lo so mica sai allora devo prendere qualcosa da qua che cosa? water no farina acqua sale olio e lievito ok non posso uscire questo che cazzo è? pizza giustamente il frigo con dentro va che belli ah è questo ah una teglia ok una teglia dove devo metterla? dove sto andando? non sono molto esperto ragazzi empty? ci penso io dove posso? fermi adesso con calma devo prenderne una dalla stove off e non 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 fof fridge aiuto che ci devo fare con sta roba in mano? aiutatemi aiuto non so più come togliermi dalle mani sta roba è finita come cosa cazzo? aiutatemi aiutatemi per favore per favore portalo fuori? si lo porto fuori va bene li butto via a sto punto li servo così se volete però devo dire che ristorante ah ah dove cazzo devo andare? di qua ma scusami la cucina ma che senso ha? c'è una cucina e c'è un forno ma non sto capendo un cazzo io ah è qua che faccio l'impasto check the own instruction on the computer è questo il computer? allora eh ordini guida ok come utilizzarla? dobbiamo mettere ovviamente nella fornace il legno per far sì che parta controllare la temperatura con la macchina della temperatura la temp gun la pistola a temperatura eh quattrocento e quattrocentosessanta degrees eh buono perfetto che non utilizziamo i Fahrenheit la pizza si prepara in sessanta secondi? ma che davvero? voi che siete pizzaioli è così che funziona? perché se sì mi chiedo per quale motivo fuori dalla pizzeria mi fanno aspettare da un quarto d'ora ai venti minuti allora siete dei truffatori e dei per di giorno l'ho detto cooking pizza above quattrocentosessanta degrees not recommended temperatura add your pizza in the oven user timer vabbè 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 ah c'è il timer anche eh read the whole extraction keep away from children and people with less than cent vabbè tenere lontano dei bambini e delle persone che hanno meno di cento di ucchi 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 va bene perfetto do not fall asleep while using the del non usare non addormentarti mentre stai utilizzando il forno è fatta è fatta allora servono tre e dice proprio tre e la madonna è istantaneo oh da posto è fatta oh ok si ci siamo ci siamo ci siamo poi cosa è successo ho ricevuto un ordine o eh dove che cazzo è mo e quindi demonstration ah che bello c'è il video aspetta allora prende il panetto stende la la pasta prende la pasta ci mette gli ingredienti peperoni il tomato sauce ok perfetto il prosciutto la mozzarella la mozza ah no i funghi la mozzarella così senza tagliarla poi cosa fa controlla la temperatura 492 ci butta dentro un altro per aumentare la temperatura perfetto 440 buono ci siamo ok prende la teglia è tutto molto molto realistico e poi la inforla e fa partire il timer di 60 secondi e quando è uscito perfetto non so per quale motivo ho delle riminescenze bella però mi sembra fatta molto bene pixabox eccola qui perfetto e mo? tutorial con il mouse dello sviluppatore tristissimo secret ex ah ci serve una password che non abbiamo e poi gli ordini abbiamo linda che ci chiede e? linda che ci chiede quantità 1 u eeeh 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 abbiamo otto minuti prima che venga a prenderla ci penso io e che ci vuole che mele che scusate vi giuro che volevo parlare in italiano ma per curiosità eeeh metti la giù metti ok per curiosità che gusto che sapori linda è il nome della pizza come il nome della pizza come il nome della pizza pizza linda eeeh linda ok eccoci qua menù prevede vabbè salsa di pomodoro cipolle eeeh funghi ok e che ci vuole? ci penso io allora no la temperatura la guardiamo dopo salsa di pomodoro ah basta cliccarci cipolle cipolle dov'è? e funghi è fatta è fatta poi a quel punto si prende aspetta che temperatura ha il forno? a che temperatura doveva arrivare? 372 deve arrivare a 400 a posto? è un po' criptico 421 perfetto meglio di così dammi sta roba ok info in forno via timer ho vinto ho tutto sotto controllo oh è incredibile è incredibile ed essendo la mia prima pizza mi merito una mancia corposa direi quindi chiederò all'incirca un 30 un 30% in più ci siamo? occhio a non bruciarla eh no ma tanto c'è la c'è il timer no? che parte deve arrivare a 60 secondi quando suono la tiro fuori che cosa potrà mai accadere in 60 secondi? mi chiedo a sto punto cosa serve a tutto questo della cucina dall'altra parte francamente me lo chiedo mi sembra molto superfluo questo cos'è? ah è lo spazzino per il camino figo temperatura 412 ah rimani in temperatura mi sto già cagando il cazzo buono molto realistico nel frattempo preparano un'altra e che ne preparo un'altra se non me l'hanno ordinata che cos'è? anarchia? altra sei minuti fermi 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 oh dov'è la pala qua? prendila veloce prendila ok è fatta olè drop the pizza in the kitchen counter dove fai scusa? qui? give the pizza to the delivery guy cos'è? c'è una mosca è entrato un calabrone ma che è? che fastidio ma che diavolo succede? è spiderman eeeh oh sta suonando il telefono arrivo ho lasciato il frigo aperto perfetto eccoci qua sta andando alla grande ragazzi tutto sotto controllo come prima come prima serata direi che ci sta pizza time pronto hey cuz good job on your first pizza of the night so from now on you will get orders on the computer just take them as they arrive and try to get them all done mhm ok there are some other things I need to tell you in the last couple of weeks some weird stuff started happening bene sono successe cose strane perfetto bene ci sono delle perdite in bagno delle cose si accendono e si spengono da solo easy un cazzo si ah il tizio di prima si è buttato dal tetto dicendo che c'era qualcosa di paranormale noi non finiremo così ragazzi ci buttiamo in mezzo alla strada penso che sia più rapido in dolore che è successo è arrivato un ordine? ci sono! ma il bagno dove sarebbe? qua cerchiamo vediamo com'è il bagno perdonatemi perché devo prendere domestichezza col posto mi chiedono un'altra pizza linda tra nove minuti ho tutto il tempo del mondo per farmi un giro vediamo quindi abbiamo il bagno toilezze no è troppo grande sto posto ma non è a norma ma siamo fuori di testa ma che cos'è sto posto? ah che spavento oddio buono erminio e abbiamo qua il nostro pizza guy pizza margherita pizza ham and mashroom e cos'è sta porta invece? meno male che non porta buono vabbè non posso metterci che cazzo ne so un cartone della pizza sopra la porta ok questo è il bagno degli uomini che c'è scritto? if you ever feel powerless just remember that a single one of your pubic ears can shut down an entire restaurant se ti senti senza potere sappi che basta un pelo pubico uno dei tuoi peli pubici per completa per chiudere completamente un ristorante con questa informazione ma veramente? questo è il bagno delle donne ma di donne qui non entrano e quindi sostanzialmente il bagno non ha neanche il water dai lavoriamo ci sta panetto e via questo è fatto che pizze vogliono? ne vogliono due ho visto una col cacao e una linda giusto? cacao e linda si si può fare allora la linda prevedeva le cipolle e i funghi e la cacao vuole la mozzarella i peperoni e il prosciutto tutte quante perlomeno hanno un denominatore comune ossia il sugo bene bene mettiamo un po' di legna alla brace ma devo fare una alla volta? che gioco di me? ok perfetto così così non mi ricordo più era era mushroom non so se sia giusto non è molto importante in questo momento ragazzi il problema è che forse avrei dovuto impiattarle tutte e due ho fatto una cagata vero? non ci interessa ragazzi non ci interessa quello che viene viene ma al massimo gli viene un pochino più più bruciacchiata senti facciamo partire il timer va ok l'altra era la cacao la cacao è con la ciao ciao ma perché si apre? ma mettimelo al centro dello schermo fastidioso bastardo tomato sauce mozzarella mozzarella prosciutto e peperoni ok mozzarella prosciutto e peperoni mozzarella prosciutto e peperoni ah peperoni si intende salame ah giusto è vero non la conosco questa lingua ancora non la mastero ma non ho fatto partire il timer è da buttare è da buttare vabbè ragazzi voglio dire vado vado così ad occhio eh ma che fai cretino molla giù prendi l'altra perfetto ci siamo fai partire il timer oh adesso va allora così l'abbiamo fatta entrare all'incirca un 40 secondi fa secondo me tra un 10 secondi è pronta sei un mito Dino grazie mille grazie mille sono un pizzaiolo però a dire il vero almeno adesso Dino hai eh? cos'è che ho? secondo me l'altra è pronta è un attimo mi sto spogliando fa caldo giustamente un pizzaiolo lavora in canottiera eccoci questa è pronta vai via oh oh rifacciamola e che devo fare? dove si butta? qua che Cristo santo allora con calma niente le devo fare una volta per forza di cose per forza di cose quanto ci metti qua ad andare? eeeh allora sugo eh mi serve più di un timer però cipolle e funghi perfetto quanto tempo ho? quanto tempo ho? tutto il tempo del mondo sei minuti cinque minuti ragazzi è facile è pronta è pronta è pronta è pronta è pronta sono solo un uomo eh perfetto questa è andata chiudimela questa si vabbè ma è un delirio giocare così perfetto ok timer questo lo porto al pizza boy devo aver trovato occupato il bagno delle signore mi scusi? deve essere deve essere un cliente che è una cliente un po' signora è un po' adirata per il semplice motivo che effettivamente non ci sono le luci in bagno non mi piace non mi piace partiamo benissimo eh partiamo alla grande ma il pizza boy dove cazzo sta il pizza boy? ma se la pizza è già pronta si raffredda ma non è partito il timer e siamo a due ma è senti è buona così è buona così è buona così va bene va bene fermati va a posto che cazzo succede una fuoriuscita di gas oddio spegni 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 è arrivato è qua ma fa la penna col motorino incredibile ridi ridi vedrai che cazzo ti capita arrivo arrivo un secondo un secondo non hai idea di che mi è successo ho visto un demone una sorta di donna però non sta andando non penso che sia molto fruttuosa questa attività due pizze in un'ora neanche pronto pizzeria sì sì sono io sono io non sento però i falcos famiglia italiana che gestisce la pizzeria è il vecchio pizzaiolo potrei scappare non guardarmi indietro vuoi risposte no no posso scappare non guardarmi indietro ho completato il turno sono un uno chef di successo guarda ho fatto tre ordini alla perfezione non contano una pizza buttata ma insomma buono stiamo andando alla grande direi ma c'è un modo di prendere due timer perché non come a dream che è sto dream non era così casa mia prima e là madonna no i corridoi no eccola lì signora no signora ok lei è andata a sinistra e io vado a destra col cazzo oddio era semplicemente una donna con l'alopecia però non si sa mai sotto certe angolazioni sotto una certa luce può essere terrificante e il suo dente è allo stesso momento quindi piano 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 c'è un bibio davanti a me che spavento 909 va bene che anni sono questi gli anni del boom economico turn off radio caro giornale caro giornal in just seven weeks and three days my fate will be sailed in marriage a questa quindi e questa qui è stata costretta a sposarsi bene sarò una brava mamma una brava una brava moglie domanda chiave soffrirò come mia madre certo è ovvio quindi praticamente c'è una maledizione sulla famiglia falcone beh falco scusatemi dove sostanzialmente vengono i matrimoni vanno a pezzi e poi la donna immagino si uccida non ne ho idea ragazzi mi manca mio padre tantissimo ma cos'è sta paranoia del papà stai parlando di un matrimonio pensa ad altro they all suggest a celebration of the pizzeria for my big day and even Annabella Annabella perché si è spenta la mano si chiudi ho vinto apposta siamo negli anni 80 sembravano più 70 dal bianco ai nero non c'erano ancora i colori quindi dovrei farmi un po' di caffè no dovresti farti uno psicologo farti nel senso ci siamo intesi sessuale allora cerchiamo il caffè ci sono i piatti dov'è il caffè dove cazzo è il caffè mi hanno spostato il caffè ma io devo sempre stare a cercare il caffè adesso ma dov'è il caffè? chi mi ha spostato il caffè? mi è entrato qualcuno nel mio appartamento? ma che cazzo vabbè sostanzialmente gli italiani sembra che vivano di questo pasta pizza e caffè ed è vero ed è fondamentalmente vero ok perfetto sempre a cucinare se non è per me è per gli altri chi cazzo ha spostato il caffè? non ne ho idea ragazzi ma questa porta perché non porta? la chitarra suona? non suona questo cos'è? car key da quando? e quindi come sono andato a lavoro prima? vediamo se abbiamo delle email another pizza night hey Joe ready for another night shift at the pizzeria? I know it's not the most thrilling thing you could be doing but it's also it's all about keeping the family business running smoothly perfetto perfetto vabbè sostanzialmente non è quello che vogliamo fare mi pare di capire però insomma io non capisco cosa sono queste note test note 1 2 3 something non so che cazzo password pvd password pvd ragazzi ricordiamoci questa password che forse possiamo inserirla nel database della pizzeria non ne so eh dovrei prendere le chiavi della mia macchina ma da quando? non ne abbiamo mai avuto le chiavi dovre adesso abbiamo una macchina perché abbiamo un lavoro mi pare giusto ok sembra non esserci nessuno non guardate minchia la porta di apri l'ascensore apri l'ascensore adesso signora no signora si fermi la sua è una fissazione per me nei miei confronti io non centro niente la prego sono solo sono solo un pizzaiolo no 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 calma 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 siamo pelati entrambi capisco che ci sia una scelta aah che piano che piano sto andando al quinto probabilmente non so cosa ho cliccato perfetto è andata ragazzi no 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 dovrei andare a lavoro ma capisci che c'è un altro problema in questo momento ok deve esserci un allarme da qualche parte allarme no 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 allora calma Dov'è? Non c'è Ok, sto andando a lavoro Perfetto, è andata È andata, è andata Non abbiamo una torcia, ragazzi, con noi Ma che succede? I need to get the underground garage Ma non era così il gioco Ma che gioco è questo? Quando è che faccio le pizze? Io voglio fare le pizze Qualcuno mi sta seguendo Ma perché ho sempre i tacchi? Ma quello che diavolo è? Non capisco questa meccanica di poter chiudere gli occhi A mio piacimento Come nella vita vera Col tasto E, tra l'altro Questo deve essere... Che cazzo è questo? Uno stronzo mastodontico? È una roba enorme Cos'è sta roba? Abbiamo del... Non capisco cosa possa essere Sembra effettivamente Qualcosa di fecale Fossilizzato Però lasciamo perdere Ma è normale? Quindi io vivo in questi palazzi? Beh, vivere no Sopravvivo, ecco Sostanzialmente L'Underground Garage Dov'è? No 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 Cos'è? La Pixar? Oh mio Dio Che è successo? È la mafia? Sono i falconi? È la famiglia rivale? Oh no Ho lavorato per i falconi Per poco tempo Io non c'entro niente Sono solo il tizio della pizza Per favore, no Cos'è sta roba? Memoria dei bambini Se le lacrime potessero fare un ponte e delle scale Le userei per arrivare fino a te in paradiso E portarti come... riportarti a casa Sembra veramente... O per arrivare in paradiso Non mi interessa Push Swing Ma che succede? Ma cosa c'entra con la pizza tutto ciò? Mi sembra molto profondo Ecco La... La... La parte diciamo ironica di questa storia È che il suo nome da vivo era Umino Bianco Spavento... Cane! Ho sentito dei passi Ah, sono i miei Ma la palla? Vuoi giocare con la palla? Ti va? Oh Non so Ha questo carattere fumoso Non riesco... Non riesco a capire a concepire Ma chi sei? Watch Slide Perfetto È caduto di culo Ci sarà un momento in cui mi farà prendere uno di quei jumpscare Che mi... Ecco Adesso In questo preciso istante mi salta in faccia E mi stacco un orecchio Lo sto... I need to get to the underground garage Ah, facciamo finta che non sia accaduto nulla Va bene Ma povero bimbo No, povero me, fidati Ball Non vedo più Non vedo più Grazie mille Grazie mille Python per la donazione Non ho letto di quanto ma... Basta e avanza Non farlo più Non c'è più bisogno veramente Grazie mille Che cazzo è la giungla? C'è un cacatua tra i pini qua Ma dove sto andando? Dov'è l'underground? Non mi piace È molto ampio questo spazio C'è molto spazio per scappare Capisci cosa intendo dire Non mi piace Ma cos'è quello? Non vedo un H Ah! Vago nel buio Ok Ok Ma dov'è l'underground garage? Io non lo so Dov'è l'underground garage? Chiedo al bimbo? Ma quando fai le pizze E io che cazzo ne so ragazzi? Ah è qua l'underground garage Ma da qua sono Non sono mica arrivato Ma che sta succedendo? No Perché flickerà quella luce laggiù? Buono Buono Però ragazzi Sai cosa sto notando? C'è poco volume Eppure è alto Ui babà Comparirà una figura sotto Il lampione Una bella di notte Ah Perfetto Ho vinto Ehm Criville parking Buono Minchia ma Veramente Basterebbe poco eh I need to find my car Right click to call your car Perfetto Ok E non Non sembra che stia funzionando Ma non ricordarsi Dove ho parcheggiato Quello è impossibile Sono un uomo D'altronde E sicuramente La mia macchina Non è rosa Ovvio Eh Ho sentito un suono Ah è di qua Ok Perfetto Sto arrivando Echela lì Ti prego dimmi Che non è quella rosa Per favore Dimmi che non è la macchina rosa Per favore Oh grazie al cielo Grazie al cielo È il minivano rosa Che c'è a fianco Che è successo Boh vabbè De Ropes Che vuol dire Pizzeria mi dica Sì ma lei mi deve fare l'ordine Non dobbiamo stare qui a fare amici Avrei da fare Benissimo Il fantasma che ti segue A casa di notte Chiamate un prete Per favore D'altronde Siete italiani No? Crederete a questo genere Di cose Credo che la migliore strategia A questo punto Ragazzi Sia Portarsi con noi Un po' d'acqua santa Ma non deve sapere L'entità dove la tengo Quindi la terrò in bocca E quando si avvicina Gli la sputo addosso Lo stesso vale per un cliente Perché non è che posso parlare Con l'acqua santa in bocca Quindi se qualcuno si presenta Ma a notare come questo posto Sia finto Nel senso che non servano a nulla I tavoli Perché queste pizzerie Sono da sport Dove trovare la password Per For the recipe on the computer Perfetto Perfetto Il bagno rimane lì Bagnato La password qual era? Pvd Password pvd Password pvd Pvd E sta cosa che mi devi aprire lì Mi va fastidio Aspetta Aspetta C'è l'inghippo Con la maiuscola Ma il resto è minuscolo Devo mettere qualche carattere Probabilmente Quindi Pvd Esclamativo No Allora Probabilmente funziona così Pvd Almeno un carattere maiuscolo Va messo No a quanto pare Pvd non vuol dire password Allora mi devi spiegare Che cazzo c'entra Scusami Qua c'è scritto password Password Oppure la password Password Aspetta è geniale No La password Dell'anno di apertura E tu come cazzarola Lo sai E soprattutto Dove c'è scritto Dove lo trovo L'anno di apertura Forse lo trovo Nel magazzino No È una pessima Devo farla aggiustare Prima o poi Con la roba Chi ha chiuso il bagno Delle donne Perché non si apre Il bagno delle donne Perché quello Degli uomini Si Perché deve essere Una donna Per accedere Il bagno delle donne Giusto Ha senso Spavento Eccoci qua 1970 1970 Ci credo poco Però ok Quindi 1970 La password Stiamo per avere Un jumpscare Di quelli colorati Ragazzi Veramente 1970 1970 1970 Ok Ok Basta Dax Gentilissimo Veramente Ma non c'è bisogno Te l'ho detto Se vuoi offrimi una birra La prossima volta Siamo pari Falco's Dove Family Secret Recipe Important Disclosure If you do not belong To the Falco's Family Se non appartiene Alla famiglia del Falco Quindi sei un passerotto Sei un piccione Please destroy This document Immediately Falling to comply Will bring upon you All wrath Of our family Benissimo Se si fallisce Per questa ricetta Praticamente Si viene maledeti Ovviamente Ci denunceranno Ci tracceranno E ci uccideranno Perfetto La ricetta è 200 millilitri D'acqua Un chilo Di Falco's Flavor Quindi un chilo Di falco 20 grammi Di lievito Falcone 10 grammi Di sale 50 d'olio Mi sembra Una ricetta Abbastanza semplice Segnatevela Per favore Perché mi dimenticherò La grammatura Di ognuno Di ciò Quindi scrivetevelo Per favore Sulle vostre Bloc note Del telefono Adesso Grazie Vi do 5 secondi 200 1020 1050 Ma che razza Di pizza è? La pizza Falcone Me la sono dimenticata Se te la segni Non accade Grazie Vin Perfetto Ovviamente Da accompagnare Con un po' di vino Buono Allora Facciamo Facciamo Sto panetto Ma io l'avevo chiusa La porta Chiudi immediatamente Sta dannata porta Ah mai più Quindi Allora Come funziona Ripetetemi la ricetta Per favore Ah 200 ml Di acqua Eela E come cazzo Dove devo metterla? Qua Nell'impastatrice L'ho messa 10 20 30 40 50 Ok Ok 200 ml Di acqua Poi Farina 1000 Ma non c'è suono In sto gioco No 1050 Va bene uguale? Dio Poi Poi 20 di lievito E vai che Due coglioni Eh A posto Olio quanto? Eh 104 di salt Perfetto 104 Ah no 10 grammi 10 grammi? Ma ne è un po' poco 50 di olio Di oil Vabbè ragazzi Abbondo con le salse Ready Spavento Nessuno lo saprà mai Ho fatto la mia versione della pizza Ovviamente ci ho messo del mio Dino's Pizza 60 60 di olio Come? Eh I need to cut The dog Vabbè Devo tagliare l'impasto Eccoci qua Come lo cut Così Io penso che vada bene uguale Non lo verrà a sapere nessuno Se si abbassa un po' la qualità A sto punto aumentiamo il prezzo Come ormai è classico In questi casi Così la gente si lamenta Costa di più E fa schifo È un motivo È il motivo È così che funzionano le pizzerie Dopo la prima settimana dell'apertura Inizia a far cagare la pizza Non sai per quale motivo Ma è così che funziona Che succede? Ok Allora abbiamo già un ordine Ci chiedono una mamas Una mamas Una pizza mamas Una pizza mamas Che tra l'altro Nel menù ci dice Che è fatta Composta da Mozzarella E cipolle Cioè una pizza Con le cipolle Basta Però devo dire che Bene o male Devo dire che Allora intanto il forno Che mi ha spaventato L'altra volta Spero che non mi so I miei riservi I riservi sorprese Però devo dire che Effettivamente Il Il A livello Che cazzo è? Un'altra ordinazione A livello di Di sapore Di pizze Devo dire che ci stanno Non sono così Impossibili Cioè tipo Ananas E ste cagate Una linda e una mamas La linda non me la ricordo più Quindi scusatemi Stavolta voglio fare le cose per bene Tomato sauce E onion mushroom Quindi Cipolla e funghi E l'altra è Mozzarella e funghi E funghi No è cipolla Cipolla e funghi Mozzarella e cipolla Cipolla e funghi Mozzarella e cipolla Cipolla e funghi No tre ordini Non ce la faccio Va bene Non ci riesco Cipolla e funghi Mozzarella e cipolla Cipolla e funghi Mozzarella e cipolla 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 e funghi Oh Ma non ne posso mettere due Di pizze Ma che senso ha Mozzarella e cipolla Ma ci metto una vita così Ma che stronzata di gioco È la tempera Party timer di merda Perfetto La temperatura è giusta 437 Sì va bene Mozzarella e cipolla Mozzarella e cipolla No prima il sal Salsa Sì vabbè Guarda Mozzarella e cipolla Mozzarella e cipolla Perfetto 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 L'altra ordinazione Quale sarebbe Scusami Un'altra linda E la linda Come cazzo era Cipolla e funghi O mozzarella e cipolla Cipolla e funghi Cipolla e funghi La linda Cipolla e funghi Cipolla e funghi Cipolla e funghi Ragazzi È estremamente Stupida Sta cosa Che non posso infornare Più di una pizza Non posso Posso fare una pizza sola Ragazzi Perché ho soltanto Un punto dove farle E non so Se poi si potrà Potenziare No Puoi leggere Senza aprire il pc Mi sa Sì Linda Linda Mamas Effettivamente Che faccio nel mentre io Sembra essere Tutto quanto in ordine Eccoci qua Le ho fatto partire Il timer per errore Ma a noi Ce ne frega poco Prendi la pizza Mettila qua Prepara il box Piano eh Niente jumpscare Piano eh Ok 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 Poi Questa è già pronta Fammi Il timer È alzerato Ok Perfetto Dai che parte il timer E poi c'era la Linda Che era invece Quella canonica Dove ci richiede solo Sugo Cipolla E funghi Basta Ormai sono Direi avviato Pronto Non Non Veramente Sta cosa Sta cosa Di lasciarla qui La pizza Raffreddare Mi turba Puoi metterne due Assieme Eh ma Come faccio a prepararne due Tipo ad esempio Se adesso io volessi prepararne una L'impasto Dove cazzo lo metto qua Per metterci dentro le robe Capisci? Cioè capisci È un problema Nel forno Come dentro il forno Che cazzo faccio? Preparo l'impasto nel forno Mi ustiono le mani? Ma che dite? Nel forno puoi metterle Allora Nel forno posso metterle insieme Va bene Ma se non ne ho due pronte Non ne posso mettere insieme due C'è un problema logistico ragazzi Quella già fatta Ho capito che devo mettere nel forno Quella già fatta Ho capito Ma se non ne ho Non posso prepararne due insieme Non ne posso mettere due insieme nel forno Non ho spazio logico Che succede? Che cazzo succede? Dammi la pizza La pizza La pizza Mamma mia Ah no Che si brucia veloce Ok fatto Si è bruciata Porca troia Sì ma 5 secondi Che è stata dentro Adesso non mi ricordo più Questo è perché mi distraete Questo è perché mi distraete Non ho fatto partire il timer Minchia ma 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 io non credo di riuscire a farcela Allora più o meno Più o meno To Questa qua 10 secondi prima Questa qua 10 secondi dopo Easy Easy Era cipolla e funghi? No Hai sbagliato pizza Ma che cazzo dite? La mamas La linda l'ho preparata La mamas Ma che che no Cipo Mozzarella Mozzarella e cipolla Ma che cazzo ragazzi Mi dovete spaventare Che temperatura c'è nel forno? 401 Buttiamoci dentro Un bel loghino Ok Credo che una Sia praticamente pronta Quindi la tiriamo fuori Non mi ricordo quale di queste Forse 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 questa È cruda? Che spavento E l'altra adesso No mi devo muovere Veloce 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 Eccoci A posto? Eh apri no? Come va? Eh? Erminio Non so cosa abbia contro di me Si è rotta una bottiglia di vino Devo andare in bagno a prendere il mocio? È una pessima idea Un porter Alla faccia Cosa cazzo c'era nel vino? Cosa sono questi microbiotici? Guardate come sguazzano là dentro C'era del lattosio in sto vino Ma cos'è quella roba? Ah è lo straccio? Lo vedo attraverso la porta? Ah gira di piano Gira di piano Ok? Ok Piano Ce l'hai messo via? Non funzioni tu Tu non funzioni Time to clean up the mess Che succede? Ma perché è tornato indietro? Come è stato facile? Ma come funziona? E quindi? Adesso? Pronto? No 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 Devo tornare Devo tornare Devo andare dietro Per accendere l'elettricità No no L'accendino bic verde no E' quello che mi ciulano sempre Quando me lo chiedono Con calma eh Signorina? Se è uno scherzo questo non è gradito Signorina? Signorina Arco due Va bene Di qua? Dov'è il dietro per accendere l'elettricità? Ah qua Chiudi la porta va Accendi la luce Ma che succede? Oddio Oddio Sta suonando il telefono Che succede? Arrivo Arrivo Veloce apriti Ma che succede? Sono svenuto Ma per via del gas? Non mi sembra un buon lavoro Questo è l'ultimo giorno E ve lo dico Esatto Ti sei chiesto perché Nascendo un ristorante Insieme a te E va a parte te Hanno costruito addirittura Una porticina Per il tizio Che fa le consegne Benissimo 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 Siamo il figlio di nostro padre Fin qua Ho già iniziato a sognare Sì sì Effettivamente lo faccio Da trent'anni Quando passeremo all'interno degli oscuri corridoi Dei nostri sogni Dobbiamo cercare di stare alla luce Ragazzi questa mi sembra un'oscura città Quella chiamata Napoli In cui ci troviamo Però ce la siamo cavata egregiamente Anche oggi siamo riusciti a sopravvivere a un altro turno Dino licenziati Bene Irritage Che vuol dire irritazione Cerca di stare in mezzo alla luce No No Perché se vado nel buio che mi fa? Non farti domande Che è sta nebbia? Hanno detto di non svapare in corridoio ma Piano eh Che cazzo è successo? Eh no però c'è una figura Che c'è una figura Non si può ragazzi Ma sarà lei immagino Suppongo sarà sempre lei no? È lì che dobbiamo andare all'ascensore? La stiamo per prendere proprio lì In tasca Non va Sono fortutto Forse la presenza della tipa dovresti chiudere gli occhi Ecco è vero potrebbe essere un'idea La lascio fare La lascio fare Chiudo gli occhi e la lascio fare Ottima soluzione Sempre le donne il problema Ma io continuo a ripeterlo Concettualmente Sta lì Sta lì Sta lì di fatto No No Ma dove devo andare? Scusami Ehi la? Ehi la? Veloce veloce Oddio dove sono? Chiudi Perfetto Che è sta roba? Abbiamo Non lo so Erminio e Concetta Fotografia del 1970 Ok effettivamente avevo ragione Questi sono gli anni 70 Se ci rifacciamo Alla data di Come si chiama? Di apertura del ristorante Quindi sono gli anni 70 E fin qua Non è Non che sia essenziale tutto però Giornal Dear Juna Only a week remains before the great day Questa è sempre Annabella Che ci dice Manca una settimana Al matrimonio We settle on a pizzeria For the celebration Following the ceremony Perfetto I yearn for our father preference Hoping the exciting moment Of the joy of him And once Hansetti greet me Overshadow of my sister demon Valentina's cries echo Through the walls of the bedroom Il pianto di Valentina L'eco del pianto di Valentina Si sente dalle pareti del bagno Perfetto Ma non mi sembra Stia piangendo in questo momento She sighs But he cries louder than Never know I attempt to console her But I recall Ma non mi interessa Della tua fottuta vita Del relationship I wish Keep trying I must E quindi Vabbè Lo sappiamo Annabella di Pavia Accidenti Accidenti succede Questa è la mia traduzione Che sta Che sta Che c'è stato questo suono Ora dove l'avrà nascosto il caffè stavolta Non qui Bene Non qui Qui Ragazzi Dov'è il caffè? E le tazzine Beh giustamente Il caffè vicino alle tazzine Ha senso Ma forse Forse soffro di sonnambulismo E di notte Mi riarredo casa Non ne ho idea Non deve essere tutto paranormale Ragazzi Dimmi che mangio la pizza Quando torno a casa dal lavoro Dopo aver fatto la pizza Ed è fatta Dovrei controllare le email Prima di andarmene No No Telefono Un cocchia Benissimo Ma una pisciatina Prima di andare Che è stato? Che succede? Perché volo? Ok Calmi Calmi Allora Con calma Con calma Allora Calculator Mailbox Important notice Financial Che che è? Arrangement Forgina E chi è Mojina? Peace domain Abil Cari falconi Mi ringrazio per informare Le non necessarie Stasi Abbiamo presenze GINA Finals Arrangement Direttori E report Andro Controllando Protocol Protocol E consultando Con le autorità Se sentite ragazzi Dei suoni Perché in questo momento Il cane sta ballando Il tip-tap In salotto Quindi Non Siete tranquilli E credo Abbia cagato Perché solitamente Lo fa dopo aver cagato Nella decisione Wow Che salto nel passato Posso tirar fuori il telefono Vorrei giocare francamente a Snake Se è possibile I need to Dentro Dentro No Non 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 La lavanderia Ce la devo avere in casa Perdonami È una pessima idea Questo corridoio È una pessima Pessima idea È bloccata Al primo piano L'ascensore No eh Niente scherzi Stavolta eh Per favore Ho letteralmente In mano Le mie mutande Non è il momento Che succede Alla luce Oddio sbuca da qui No Gesù Ok Ok È fatta Mi chiedo per quale motivo Io prima Abbia avuto in tasca L'accendino Ma non le sigarette Chiudi gli occhi Se la vedi È una pessima idea Farlo La porta di casa No ragazzi Non la chiudo La porta di casa Perché credo In un'America Sicura Credo in un Avvicinato Con Un'idologia Ma di notte Devo fare ste roba I need to go to the Laundromat Dov'è il laundromat Dove cazzo è il laundromat Io non so dove sia Credo sia quello Il laundromat Così Su due occhi Non so Non so neanche come sono arrivato qui Mi chiedo più che altro Dove Dove diavolo io abiti Perché non ci sono macchine Non ci sono pedoni Non c'è niente Ci sono solo io Anzi in realtà Non ci sono manco io C'è un cestino che fluttua Io sono solo un'entità E se fossi io Il mostro Però L'impegno Che ha avuto lo sviluppatore Nel ricreare Tutte queste Tutte queste robe Complimenti Pull 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 Che è sto suono Non c'è bisogno Super Void Voglio giocare adesso Aspetta 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 Carichiamo La machine Machine Come funziona Io non sono mai stato In questo post In a case of quick failure King wash management Chiamate il 757 810 1968 1986 Scusate C'è la porta Mi servirebbero le monetine C'è le monetine C'ho il change per le monetine Ah qua devo mettere la roba A posto Devo trovare il detergente Per la lavatrice Per la lavatrice Ma io voglio giocare Inserta coin Dove cazzo è il coin Voglio giocare al cabinato Per favore E' vuoto Mannaggia Trova i Ma perché devo trovare i soldi Non sono venuto qua Con 5 monete Ma scusami Pensavo fossero monete Sono i bulloni delle sedie Ma scusami Ma io con Con che coraggio Continuo a vivere questa vita Da cattone Scusa Dove li trovo io 5 monete Qua dentro E io non so È una lavanderia arcade Sì Intanto spegniti Ah ecco i soldi A posto 1 di 5 Ma la madonna Ma erano 30 dollari In monetine da 1 Oh 2 Sta parlando intanto di Siamo cretini E' la Bill Bill Ho perduto Ho perduto la chiave Per lunedì Per lunedì Penso che è una La lavanderia Perfetto Dentro una delle lavatrici C'è una chiave Quello è un pisello No però No però E ovviamente le monete Non potevano essere Che in questo posto Perché si è chiusa la porta Perché si era chiusa No 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 Ok manca Ma manca Soltanto una monetina Chiuditi Non si chiude Che sto facendo Che sto facendo A posto Ah Ok Tra un'ante e l'altra C'era un pisello Eeeh Monetine 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 Doviamo teoricamente Trovare Una chiave Anche all'interno Di una di queste Cappero Di lavatrici Forse qua dentro No Ma io devo Faticare così Per ogni cosa Nella mia vita Mi sembra un po' Esagerato Non vedo Non vedo Ragazzi vedete una chiave E qua non posso Ovviamente non posso andare Non vedo nessuna chiave Io sinceramente Come faccio? Sotto le macchinette Delle merendine Ah Dei machine Inteso Ah Ho voluto Washing machine Sotto le macchinette Delle merendine Ci sono le monetine Si da una spallata Forse Non vedo Aspetta Forse ci sono altre macchinette No Sono nell'angolino I soldi Ma non li vedo mica io No Dentro le lavatrici Allora Che cazzo Aspetta Forse sono qua Ah Office Oh Dio Oh Dio Oh Dio Oh Dio Facciamo che chiudi qua Va Perfetto 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 Chiuditi va Sono sicuro che gli spiriti Non hanno i pollici opponibili Sono incorpori D'altronde Placeholder Un altro PC E quindi Sti cacchi Allora di soldi Ci sono Ma è una pessima Pessima idea Signora La vedo Eh Già Per partire La lavatrice E certo Figurati C'è dell'acqua per terra Signora Gesù Gesù Ma io voglio giocare Ma io voglio giocare Voglio giocare Voglio giocare nel gioco Per un attimo ho visto un'ombra contorta Quella Sembra abbastanza veloce Dovrei rispondere al telefono E come si fa E dov'è Non è in tasca il telefono Dove cazzo è il telefono E come Come cazzo Tasto destro Mi stanno storcherando ragazzi Questi della pizzeria Voglio giocare anche nel gioco Ma chi Ma chi sei Ma non mi importa della tua storia Ma aiutami per favore Ma chiama qualcuno Chiama la polizia Divento un rifugiato politico Me ne scappo in un altro paese Se si tratta Se si tratta solo di mafia Voglio dire Gina è tua madre Va è mia nonna Funziona così Che sta succedendo Non so Ma certo ho smesso di ascoltare Dino porterai mai Alien Ma ti sembra il momento Tommy Non ho capito niente Che va è mia nonna Gina è mia madre No No Ok Ho sbagliato il tasto Perdonate Come non sto capendo Va è mia nonna Gina è mia madre Oh Mio padre è K Anzi no è So Mio nonno è K Pronto Sono inglesi come quelli sviluppatori Non mi interessa Ma davvero Voglio solo andarmene da qui Magari datemi lo stipendio prima Tanto le chiavi ci sono Basterebbe veramente Derubarle 91 e 58 Porco due Comunque hanno l'accento inglese Ma si fanno pagare in dollari In sé che in sterline E' confusa questa situazione E siamo in un ristorante italiano E io sono mezzo messicano Qualcosa non va Mi pagano? I need to find the item for the ritual Che sta succedendo? Come il rituale? De che? Ma come Ma che sta succedendo? Scusate Ragazzi Ragazzi Continueremo la prossima volta E' carino Ci sta Ci sta Devo dire me lo aspettavo un po' più inquietante Un po' più simile a Mortuary Assistant Però Però ci sta Ci sono stati dei momenti altissimi Lo continueremo la prossima volta Che dovrebbe essere venerdì Se non sbaglio E niente Andiamo avanti con Con At Tonys Un plot twist Un plot twist Un plot twist Oddio Oddio Bellissimo gioco no Bellissimo gioco no Ma siamo italiani Più di questo non ci meritiamo Quindi direi di Tornare al menu Date un voto da 1 a 5 Date un voto da 1 a 5 Voi di TikTok Se volete passate qua su Twitch Che adesso facciamo le solite Quattro chiacchiere Reaction Eccetera La prossima avvisatevi E' venerdì ragazzi Come al solito Quit to desktop Dai Da 1 a 5 Votate Votate 1 per 1 2 per 2 3 per tutti 4 per 5 4 e 5 per 5 Intanto devo chiudere di qua Sono curioso di vedere Che cazzarola Che valutazione gli date Sono proprio curioso Sono proprio tanto curioso Tra l'altro Su Steam Il gioco è votato Con positivo Strano che ci sia Una via di mezzo Su Steam Solitamente O è per lo più negativa Ma come ho gli occhiali Guarda Ok Meglio 4 50% di voi Dice 4 Vabbè ci sta dai Vediamo un po' di mossica Ci sta Ci sta Ci sta Vi ricordo che dobbiamo Continuare Reveal Che Che si Dobbiamo continuare Reveal Perché non l'abbiamo finito E dobbiamo iniziare Pine Harbor L'altro gioco horror Che Madonna Che Sinceramente Avevamo giocato la demo Ci era piaciuto Vorrei continuare Quello che sembra Silent Hill Però con i fucili Poi dovevamo continuare Basta no Reveal E coso Perché poi per il resto Non abbiamo altra roba Ci sono altri giochi horror nuovi Aprile 24 Mi sa che ragazzi Scusate Non lo porto più Perché Sinceramente Lo trovo un po' devoluccio Cioè non mi convince Era spaventoso Sì ma niente di nuovo Raga Certo che non ce la fate Perché Che è successo Porta Skyrim Ma porti La popolazione La popolazione A 9 miliardi di noi Ci sta Sono quelle piccole Tu dici Nel 2024 Le macchine voleranno No Ci becchiamo le cannucce di carta E i tappi che non si svitano Pony Pony Until Dawn Già portato ragazzi Per l'ambiente Dicono Sì per me è anche L'ambiente in casa Però da considerare Perché se è una certa Per la rabbia Inizio a spaccarmi Le vettovaglie In faccia In testa Manor Lords ragazzi Non credo che lo porterò Non credo che lo porto più Nel senso che Non è che fa schifo Però lo trovo Un po' noiosetto E sì E sì Secondo me Non è venuto benissimo Bisogna aspettare Un attimino L'early access Dovrei dato un pochino Più di tempo Per Manor Lords Sì facciamo reaction Adesso Solito Abbiamo il nostro Niccolò D'Abbialini Tra l'altro Che si è fatto Un orribile viaggio In In India Ora non c'entra nulla L'India Non sono correlate le cose Si è fatto un orribile viaggio In India In uno dei treni Più schifosi del mondo Volevo continuare A vedere quel video No rest for the weekend Lo stiamo continuando Su Youtube Sabato dovrebbe uscire La prossima puntata Quindi direi che Si fa Si fa Si fa Che succede Che sono sti suoni Madonna Madonna Fatemi far Fatemi passare Ste cazze di pubblicità Continuiamo stasera Il video Sto solo aspettando Che finisca la pubblicità Di Youtube Ragazzi Perché è lunghissima Quattro annunci Cioè Allora Facciamo così Facciamo così Eh? Eh? Un anno mese Che si è abbonato Grande Ciao bestiaccia Grazie mille Per le belle parole Non li pago Non li pago Salva qui dalla stazione A questo punto sono salito sul primo tuk tuk per andare in zona aeroporto così da potermi Mi sono sempre chiesto ma le tuk tuk non sono correlate ai tuk tuk? Cioè le patatine tuk tuk non c'entrano un cazzo con i tuk tuk? Metodo di locomozione a tre ruote Indiano Secondo me sì Twist E ficcare in un bell'hotel pulito dove potermi lavare Riposare e lavorare prima di ripartire E soprattutto recensirvi questa incredibile esperienza Che comunque non consiglio Non fate viaggio all'ultimo secondo Ma è finito Prenotate per tempo così non siete obbligati a farvela in terza classe Ah amici che nottata indimenticabile No indimenticabile Ma dove sei a Dubai? Ma cos'è ti stanno Secondo me è un cambio d'organi gli stanno facendo Lui neanche se n'è accorto Sei svegliato con delle cicatrici dietro la schiena Non sa per quale motivo Ha dato la colpa a una pagliuzza che usciva dal letto Ma in realtà gli hanno tolto un rene Ma che succede qua? È stato un incubo Ma soltanto se ci soffermiamo sui dettagli Perché in realtà sono sceso dal treno Tutto da un pezzo e con la mia roba addosso Quindi sì è stato molto scomodo Ma se t'han derubato la tua roba addosso per metà è rimasta via Sicuramente la notte in treno peggiore della mia vita Però mi rimarranno dei Fermi Avete visto? Fermi È stato molto scomodo Sicuramente la notte Lo vedete quel piccolo dettaglio? Veramente microscopico in questa immagine Lo vedete questo dettaglio? Ditemi che vedete Lo state vedendo? Era drogato No ragazzi Ma quanto cazzo è in alto? Guardate Guardate le persone Quanto sono piccole Ma quanto è in alto lui? Quanto è alto questo vagone? In treno peggiore della mia vita È la madonna Ma ragazzi Mi rimarranno dei ricordi molto divertenti Anche mi sa un po' di alluminio nei polmoni Sono state otto ore abbastanza interminabili Perché non è che avessi molto da fare Ma la mascherina non ce l'hai Ho cercato di scaricare della musica Ma quella mattonella di telefono made in India Che mi sono comprato Continuava a cresciare Quindi boh Mi sono messo a guardare un po' di Simpsons Anche perché il treno continuava a fare Simpsons ovviamente in indiano Fermate E ad ogni fermata salivano delle persone Secondo voi queste persone Tenevano le luci spente E la voce Perché ha fatto il simbolo In Albania Questo non vuol dire ti faccio il No C'è bassa Assolutamente no Faro acceso Puntato negli occhi Urlavano Anche al telefono Zero considerazione degli altri Però ci sta Ognuno per sé Poi alla fine entri nel mood E dici Vabbè stanotte sarà scomodo E non dormirò Molto scomodo Mewing Non vuol dire ti Non è No Anche perché Il tipo sotto di me Anna certa Mi ha sfilato la coperta E uno dei due cuscini Che magari in realtà era il suo Perché appunto Ne avevo due Non sono più riuscito a tenere Rialzate le gambe Quindi per far sì che la porta Che si apriva in continuazione Non so dove andava la gente Sicuramente andava in bagno Posso dirvi tutto ciò Che hanno mangiato le persone Che sono andate alla toilette Sì insomma Sì perché questo bocchettone dell'aria Vi ricordo che dà al bagno C'è il vagone Al bocchettone dell'aria Che dalla sua cabina Dà al bagno Sostanzialmente Quindi lui è lì C'è il motivo per cui In questo momento Lui ha la maglietta Sopra Cioè preferisce Sentire La sua sudorazione Piuttosto che l'aria Che lo circonda È perché Quel bocchettone Dà al bagno Altro piccolo dettaglio Si trova in India Per non ritrovarmi Con un tallone da chili Sì ma risucchia Un cazzo Ti dico io Cosa è stato risucchiato In quel bagno E sostanzialmente Non lo vuoi sapere A una certa Mi sono accartucciato E ho provato a dormire Con un occhio aperto Letteralmente In modalità Gandalf Per evitare che un qualche pipino Venisse a ciularmi Il palantir della situazione Se ti viene Se va a cagare Però Nicolò Eh Con rispetto e amore Ovviamente Metti il cuscino Cazzo No Quindi puoi vedere La gente che Sì sì Che si lava le mani Eh lo so ragazzi Ma no tranquilli Siamo in India Sto aspettando Che la pubblicità Finisca Qualche pipino Mi ha fatto ridere Di che stai parlando Importanti che avevo con me Ovvero passaporto E SSD Con il backup Di tutto il girato rimasto Ammetto Che se fossi stato in compagnia E non I tuk tuk Sono le Le macchine Le macchine Ragazzi Le 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 api Sono delle ape car Sostanzialmente Loro le hanno strutturate Affinché possano ospitare Tre persone Il guidatore E due dietro E Sono i taxi Indiani Ma avessero ciurato il telefono L'altro giorno L'avrei vissuto un pochino meglio Però nel mio dormiveglia Ero un po' imparanoiato Perché c'era questa tizia Ogni volta che mi affacciavo Era lì che mi fissava così Ha fatto otto ore Seduta Sul letto Dove dormiva un tizio Non so come mai So che pensavo Stesse facendo tipo il palo Perché effettivamente Io ero nel letto Più vicino alla porta Su un treno Che fa tante fermate Che durano a loro volta Un paio di minuti La situazione perfetta Per il vecchio Ruba e fuga Mi aspettavo che ad un certo punto Venisse qualcuno A rubarmi le mie cose Una volta che scappano Ma il classico Che cazzo guardi Cioè scendi dal letto E con la stessa faccia Che ovviamente Contraccambi no Quella faccia così Tu con la stessa identica faccia Così che cazzo guardi Non poteva chiederglielo Tanto sicuro al treno Non li prendi più E infatti Un tizio che stava seduto in basso Ad una certa Ha spostato Quei strani sacchi Che c'erano di fianco Il mio bagaglio Spostando il mio borsone Lì mi sono impanicato Perché pensavo mi stessero rubando la roba Però poi ho visto Che era tutto ok Ho spostato leggermente Cioè non ha più le scarpe Però Il borsone Ho infilato il braccio Nello spallaccio E ho tentato di dormire Aggrappato al bagaglio Infilando la testa Nell'angolo che si era formato Per potermi stendere Un pochino di più Ma non vi dico No ragazzi Non parliamo Allora Niente luoghi comuni La criminalità esiste dappertutto I ladri ci sono dappertutto Lui in questo momento È in uno stato di allerta Perché è stato derubato Nelle precedenti puntate Gli hanno ciulato il suo iPhone 3000 Fonte del suo lavoro Tutto qua Tutto qua È solo per questo Che lui è in questo stato di allerta Altrimenti sarebbe Il solito e gioviale Nicolò Che ricorderemo con questa faccia Perché da allora non si è più visto Polvere che c'era in quell'angolo Secondo me Quando hanno profanato La tomba di Tutankhamon Ce n'era di meno Però dovevo in qualche modo Togliere la mia testa Da davanti a quella ventola È stato veramente un inferno Però poteva andare peggio Perché intanto C'era soltanto una persona Che russava Che tra l'altro È stata Fonte di grande divertimento Perché Scoreggiava in continuazione Ma erano delle scoregge Perfette Da cartone animato Veramente esilaranti Cioè sembrava tipo La libreria audio Di Antonio Ricci E poi cosa più importante Sono riuscito a scendere Alla mia fermata E non era scontato Perché il mio fantastico Infinitri Infinix Ad una certa ha smesso Di funzionare internet Poi ho scoperto Che cambiando stato Non eravamo più Nel Rajasthan Dovevo attivare il roaming Quindi ho potuto monitorare La mia posizione Sulla mappa E scendere Alla fermata giusta Perché nessuno Ti dice qual è la fermata Io avevo la tabella Degli orari Infiniti Si pronuncia infinitri Ma erano tutti sballati A volte arrivavi in anticipo A volte arrivavi in ritardo Ma si fermava Non si capisce nulla Da quelle tabelle Per due minuti Quando ho visto Che ci stavamo avvicinando Alla stazione di Delicant Mi sono scollato Da quella branda In pelle di nutria Lasciando anche Una bella sindone di me Con la stessa posa Di quei corpi Trovati a Pompei E poi Storia breve Io e Andrea abbiamo passato Una meravigliosa Un meraviglioso viaggio In treno Che Più o meno Io No È stato peggio È stato molto peggio È stato Intanto perché ho dovuto Dormire con Andrea E Abbiamo dormito A 69 E avevamo soltanto Una brandina In realtà lui è un cretino Perché tutti noi Avevamo una branda Eravamo in quattro Tutti noi avevamo Una branda Ma lui non voleva Lui è stato l'unico Che per pura sfiga Si è ritrovato Nell'oculo O l'oculo Dipende dalla pronuncia A fianco Con un gruppo Di albanesi E Io non sono Quel tipo di persona Ma lui sì Quando ha aperto la porta Ha visto la gente Che c'era dentro Si gira Con la vena gonfia qua Dicendo Per favore Posso dormire con voi I piedi I piedi ci facevano Da cuscino Sostanzialmente Abbiamo dormito Tipo a banana Ma il problema Principale È che avevamo bevuto La sera precedente Bevuto e mangiato Una grossa bevuta Una grossa mangiata Veramente grossa Bevuta E una grossa mangiata Quindi eravamo in fase Digestiva E siamo stati Nove ore Senza Acqua Perché non c'era acqua E non ce la servivano In quel dannato treno L'unica acqua Che abbiamo bevuto Era l'acqua gel Che Trenitalia Lasciava Letteralmente Una Una Confezione di acqua gel Piccola così Da 50 ml Su un letto Ok Un letto Per quattro persone Che abbiamo suddiviso A dito così Ed è acqua gel L'acqua gel È come se tuo nonno Ti sputasse In bocca Ok E tu bevi Concettualmente Quello è il sapore Abbiamo con un dito Preso l'acqua gel Messa qua Passata sui denti Siamo sopravvissuti Così per nove ore Il film The Martian Nel film The Martian Il Il Mad Demon Ha sofferto meno E E siamo E Sì Sì Mio nonno Sì E Siamo E siamo arrivati poi A Milano Successivamente Dopo nove ore Di treno Quindi Nicolò Ti abbiamo battuto Mi dispiace Mi sono calato giù Non è andata poi così male Se fossi stato in compagnia Ovviamente Se avessi stato uno spasso E me la sarei vissuta diversamente Mi sarei anche fidato A lasciargli la mia roba Per andare in bagno Oddio Però il bagno Cosa non galleggiava In quella turca Che con i movimenti Del treno Sembrava La mucillaggine Nel canale di Drake Ma poi era tutto Scassato Una puzza totale Però almeno possiamo dire Di esserci fatti Un bel viaggetto di otto ore Su un treno notturno Indiano in terza classe E quell'oretta e mezza Che ho dormito Ho dormito alla grande Boh Finale aperto Lasciamo spazio Per un sequel Non ci sarà un altro Vero e proprio episodio Dedicato all'India Perché gli ha rubato Anche quello Perfetto Poco dopo aver finito Di registrare Questa parte di video Mi sono reso conto Che c'era un piccolo Problemino Corporeo In corso L'India Non perdona Vi racconterò tutto In un bel video extra Che uscirà questo Venerdì alle 19 Quindi mi raccomando Tornate sul canale E poi basta Ce ne andiamo in Cina So che l'India Non è per tutti So che tantissimi di voi Se non proprio la maggior I cani sbucano dalla terra In questo paese A parte mi direbbero O mi hanno detto Io non ci andrei mai E ragazzi Vi dico la verità Io vi capisco Anch'io sono venuto Via dall'India Abbastanza provato Non è un paese Facile Se pensate di non riuscire A so È un paese Comunque un paese povero Cioè ovviamente Bisogna cercare Di intuire Che ci sono usi Costumi differenti E quindi Di conseguenza Blablabla Solite robe Fatto sta Che io non ci andrei mai Cioè nel senso Portare tutto quel casino Rumore Inquinamento Sporcizia Non c'è niente di male Ci vado io per voi Non vi preoccupate Fatemi sapere se vorreste Vedere altri video Da questa parte di mondo Il video Sì 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 Assolutamente Assolutamente Però magari La prossima volta Con una scorta armata Nicolò Viaggio da incubo In un posto da sogno Che è sta roba E quindi sostanzialmente Sì è esotico Come paese Pensavo Nicolò Tutti scalzi Ma lui coi calzini Sì Beh Ha una certa Quell'istinto Di conservazione Ti parte L'idea di entrare Nel templio Dei ratti Scalzo No Cioè Già non ci devi entrare Se poi ci entri anche scalzo No Dei ratti Sì Topi un cazzo Erano così Io vado Ciao È stato un piacere Ve lo ciratto Grazie Daxin Per le tue freddure È stato chinito Non c'è il nesso Ma possibile Possibile Molto possibile Mettiamo un altro po' di musica Ma erano carini Sì Quelli che non erano Senza pelo E ricoperti Delle loro stesse feci Erano carini Sì L'abbandono Grazie Grazie Struzzo È stato un piacere Grazie mille Sea of Thieves Non credo che lo porterò Ragazzi Perché l'abbiamo già portato Ed è uno di quei giochi Che non ha un vero e proprio Risvolto a livello gameplay Cioè nel senso Cazzeggi In mezzo all'acqua E Dopo un po' mi rompo i coglioni Perciò l'abbiamo portato Con Andrea Tempo fa Ma non credo che Anche adesso che è uscito Su Playstation Non credo che gli darò Un'altra occasione Perché Non mi interessa Ah Alien l'abbiamo già giocato È stato uno delle prime Horror Night Che abbiamo portato Valheim Non credo Per adesso ragazzi Ha fatto altri episodi Per chi Dino Zoonomali È finito No E Tony se lo continuiamo Certo Allora Ragazzi lo continuiamo Per forza di cose The Forest Non credo Perché no Tra l'altro È uscito Questo gioco qua Allora Io non sono per gli FPS Ragazzi Lo sapete che Non mi fanno impazzire O meglio Mi piacciono molto Ma ormai Non ho più Non sono più affascinato Dal mondo Però Da questo mondo Però è uscito Questo Grey Zone Che è un nuovo FPS Iper realistico Alla modica cifra Di 30 euro Con questa musica Proprio La musica del trailer Che Niente Ci vede Ci vede Nei panni Dei militari Nella zona grigia Di Non so quale mondo Però guardarlo Sembrerebbe Il sud est asiatico Una roba del genere Ma io mi sono rotto Un piede Vabbè Ne ho altri due La particolarità Di questo gioco È la sua Il suo incredibile Realismo Infatti vedete Le armi Non le tengono così Ma le tengono così Come dei rincoglioniti Questo rende Il gioco estremamente Realistico Oltre che esteticamente Un pugno in un occhio Però Sostanzialmente È un escape From Tarkov Pompato Almeno così L'han definito Togliendo Delle meccaniche Un po' Rottura di balle Che c'erano in Tarkov Con una meccanica Della balistica avanzata Che praticamente Se tu spari A una roccia Per dire Il proiettile Può rimbalzare E colpire Il tuo sottotenente E poi Sono grandi Io volevo provarlo Non so se Lo proverò In live Anche perché A quanto pare Fa più schifo Del previsto Nel senso che Tra le recensioni Dicono che sia Nella media Più che altro Perché il gioco A livello tecnico Crash C'è la solite Stronzate Ovviamente Se muori qua Muori nella vita vera Come ogni Come ogni gioco Con la permadef La morte permanente E' figo Sto gioco Molto meglio Di Tarkov Perfetto Questa era la frase Che Andrea Non doveva dirmi Non lo giocheremo mai Ho cambiato idea Completamente Eh ragazzi Ragazzi Quando una cosa Piaccia a lui So che non piace a me Me lo compri Dino Va bene Scrivimi in privato Portalo tra una settimana Che ore i server Sono in fiamme E infatti Concettualmente Volevamo fare quello Aspettare un attimino Perché è un po' Una merda adesso Perciò portarlo Tra un bel po' Minecraft Ragazzi Lo continuiamo Ma lo continuiamo Con Andrea Cioè Rifacciamo Ma non sarà horror Cioè giochiamo a Minecraft Scarichiamo una mappa Cooperativa su Minecraft Adesso ci organizziamo E faremo una cooperativa Così Con un senso Con un obiettivo Stiamo cercando un attimino Di Capire che tipo di mode Ci sono Su Course Forge Che possono farci Perché se no Minecraft in cooperativa Senza un vero e proprio scopo Cioè Ammazzi l'Ender Dragon Due palle Mi ripeti il nome dell'FPS Grey Zone È questo qua Zona grigia Non vi è l'italiano È solo in inglese Ma non penso che Tanti fucili Hanno la stessa lingua In tutto il mondo E Nella media Appunto perché Tra le recensioni Possiamo notare La recensione di Vix Che dice Ottimizzato malissimo Con una 4090 Faccio due FPS Non gli credo Neanche se Me lo fa vedere Perché è un bugiardo Vix 52 Però diamogli beneficio Del dubbio Oppure Lenny che dice Solo bug Altrimenti abbiamo Deo Canma Con due si pronuncia Dio Comincio col dire Che il titolo Non è mal ottimizzato Anzi I problemi di performance Sono stati nelle prime ore Di natura server Quindi sostanzialmente Acquisti un gioco Non lo puoi giocare Perché i server Sono intasati Perciò dai una recensione Negativa Sostanzialmente Questo Nonostante ciò Quest'uomo Ha un'ora E due Di gioco Totale Questo invece Gumbalt Ha dieci ore Quindi l'ha giocato Dice che le prime quattro ore All'interno di questo nuovo gioco Non mi hanno soddisfatto Per nulla Mi ha colpa Perché ho dato retta A tutti gli streamer Venduti Attenzione Che me hanno Ne hanno alloggiato Le qualità Che ovviamente non ha La strada Che stanno prendendo Molte case di sviluppo Con gli early access Sta sfuggendo di mano Non garantisce All'utente finale Una perlomeno Godibile Fruittura Del titolo Spero di poter Cambiare idea Ma al momento Sono 35 euro Spesi malissimo Ma tu Dieci ore e uno Ti ci sono volute Per capire Che è un gioco Che non ti piace Dieci ore e uno A porco due No lo capisci La prima ora Se il gioco Non ti piace Non ti va bene E poi Due ore Per un fps Ti basta mezz'ora Per capire Se non ti va bene E poi chiedi il rimborso Ma sei un ciula Gumball Frassa Ci dice al momento Non me la sento Di consigliare l'acquisto Visto che ci troviamo Dinanzi a una bellissima idea Ma che è ancora Da migliorare Soprattutto sull'aspetto Dei server Vabbè Questo è stato Un pochino più leggero Certo dice che gli sviluppatori Che le mamme degli sviluppatori Sono delle Cortigiane però Poi abbiamo Pipi Donuts Che ci dice Aspetta I nomi sono eccezionali Aspettate che almeno Sia giocabile Prima di comprarlo Intanto gli diamo La recensione negativa Non dovreste avere Non dovreste avere la libertà Di parola Non dovreste averla Hanno dato nella media Non rest for the wicked Sì ma per lo stesso Identico motivo Perché la sua La 4080 Di Vix Non riesce a gestire La potenza di Non rest for the wicked E quindi il gioco Va in negativo Porterei Party animals E che cazzo è Party animals Vediamo Party animals Ma perché ci sono Ste vampate Di moda Cos'è sta roba No Non lo porto Continuiamo Non puoi iniziare Un video Con un miagolio Mi hai già perso Mi hai già perso Basta Quindi dire di no Napuland Subito Non c'è su Steam E poi c'è Stray La storia Di un gatto gay Tra l'altro Stray dovrebbe Adesso uscire Su Xbox Perché credo Si sia staccato Dalla Dall'esclusività Non so se Che se non l'avete giocato Voi che avete Xbox Dategli un'occasione È un bel giochino Non è niente di che Non è il gioco dell'anno Come dicono Che doveva finire Una stronzata incredibile Però è un bel gioco Prototype 2 Si devo trovare una Playstation 3 Però si se vuoi porto Prototype 2 60 Seconds No no 60 Seconds Non lo porto ragazzi Resident Evil 7 L'ho giocato E secondo me Uno dei migliori Però vabbè Sono gusti miei Perché molti dicono Che faccia cacare Però a me Devo dire che l'ho trovato Molto bello A dire il vero Mi piace la prima persona In Resident Evil I giochi Chilas Li portiamo Solo che non li ho più portati Ragazzi Perché gli ultimi Sinceramente Mi hanno lasciato un po' me Cioè quelli più belli Li abbiamo già portati Della Chilas Art Gli altri sono praticamente Gli stessi identici Con qualche meccanica Cioè con una storia diversa Ma addirittura L'ambientazione è la stessa Quindi Non lo so Preferirei aspettare Di trovare qualcosa Che valga la pena Di Di giocare Ecco Tanto ci vorranno Non penso che ci metta tanto A fare Ma io sto aspettando In realtà il gioco di Come si chiama Oddio First to Fatum Il nuovo First to Fatum Che dovrebbe uscire a breve Non vedo l'ora Perché Quelli mi sono Mi sono piaciuti tutti Cioè non ce n'è stato uno Che non mi abbia Lasciato Estere fatto Ah Una domanda di Youtube Non mi interessa Eccoci qua Eccoci qua Via Facciamo avaliazione India 2024 Come mai è in pausa La chat Che è successo Blair Witch Fida te L'ho già giocato Aspetta Il gioco Perché il gioco di Blair Witch Fa cagare Fa estremamente cagare Ma com'è successo Ha funzionato Wow De pierda De Cristo però Gesù Santo Dio Mamma mia Sapete quando cazzo Riesco a trovare Questi video Che mi fa Sapete quando riesco A trovare dei video Del genere Che mi fanno ridere Quando non sto facendo La live E Youtube Magicamente mi consiglia Quel video Che effettivamente Ha dentro Delle clip Che ti fanno sbellicare Perché quando invece Sono qua In live con voi Cercando di perdere A questa scommessa Se ridi una volta Devi ricominciare Io non riesco a ridere E salvali Non posso salvarli tutti Attenzione C'è un anziano Si fa male C'è capisci Non sto ridendo Non sto ridendo Ragazzi Fa paura Però è diventato Un horror Nel sottoscala C'è Harry Potter Tra l'altro Dov'è Dov'è Il microfono Se un pesce cane Si mangia il gatto È il ciclo della vita Anche la risata finta Poi che cazzo Vuoi mettere I mortaretti Striscia la notizia Il gabibo Che affoga In fondo al video C'è cosa Cosa serve Per cercare Di spigliarmi Una risata No ragazzi Sai perché Non voglio continuare A vedere sti video Perché finisce Che poi L'algoritmo Pensa che mi facciano Ridere E me ne mette altri Ok Adesso Parto con un altro Video completo Ok Quello che state vedendo In questo momento È una volpe Che sta affogando Nel cemento Se ridi Perdi Sta morendo Sta crepando Capisci? Capisci? Sai cosa fanno ridere Dei meme? Di questi video Del cazzo Le copertine Quelle sono divertenti C'è un uomo Con la testa aperta C'è un uomo Con la testa aperta Ma no Fanno cagare 10 minuti di meme Addirittura 10 minuti Sembra interessante Ma è un cane No era una volpe Ragazzi Fa parte del video Pronto o Pronto Che è successo Ah perché non ha ringraziato Che gli ha tenuto la porta aperta No ragazzi Non ce la fanno Mamma mia Mamma mia Scusatemi Non l'avete visto Però effettivamente È stata una mossa geniale Dopo che ha posizionato La terza X Facendo così Lo scacco matto Del Tris Rivela che sotto Questa X C'è un pezzetto di carta Che rivela Un cerchio nascosto Beh 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 Ovviamente Ovviamente è stato condannato Alla sedia elettrica Per questo Porta Departed Prototype Guarda il trailer È su Itchew Departed lo conosco Non lo gioco Perché mi fa vendire Motion Sickness Ne stavamo parlando oggi Bisogna avere la merda Nel cervello Però Porta FIFA 98 Guarda i Bad Driver Ovitaly Stai facendo la patente Blur Che c'entra Blur Sempre in mezzo al cazzo Blur Ma che vuoi Ah le dashcam Ah le compilation Delle dashcam Ma sì Perché no Ma perché no Ti incazzi Se guardi Bad Driver Sì perché ne faccio parte Troveranno poi Ci sarà una clip Con la mia dasha Che non guido io Ovviamente Più che altro Mi chiedo Che cazzo servano Le dashcam Ancora Mi chiedo il senso L'utilizzo Di sti ageggi 13 minuti 13 minuti così Ma sì ma che ci frega Un minutino Lo facciamo Calermo Complimenti Complimenti Papa da Pipu Succede? Scherzetto eh Incredibile È esattamente quello che è successo Tempo fa In un caso di cronaca nera Con una Maserati E una Smart Sapete tutti di che sto parlando Non andrò oltre Non dirò come la penso Su quello che è successo Ma è esattamente così Che è successo Le Smart Non sono auto Il problema è se non c'è Che è Oh Capisci perché c'è La cosa bella è che qua Quello non fa la precedenza No? Che poi tra l'altro Era già in corsia Bastava rallentare Con sto cazzo di motorino Di merda Ma vabbè Quindi gli entra dentro La portiera Poi successivamente Gli taglia la strada Facendo Guarda Guarda Perché lei doveva passare Lei doveva passare Lei non gliene frega un cazzo Doveva passare col motorino Di là Quindi un altro essere umano Anche se ha ragione La Smart In questo L'altro essere umano No No È incredibile Quei deficienti Vabbè Che è stato? Ma entra lì dentro Con tutta la macchina Che cazzo te frega Me ne imparano una lezione Questo è un grande classico Panculo stronzo Incredibile ragazzi Proprio un paese colorato Il nostro Ora questo Ora questo Cosa? È un bedone? Ah Addirittura Dove siamo? In Inghilterra? Che è successo? La sbarra Fermati Milanese Attenzione Non si vede nulla Ma che cazzo gli suoni Che lo distrai ulteriormente Già sta facendo un sorpasso Che tra l'altro Illegale In senso lato Che succede qua? Tamponamento Perfetto Canonico Tampona anche tu Che senso ha tamponare Se non si tampona insieme? Genova Si capisce Si capisce È tutta sbagliata Sta città C'è un ponte sopra Una via che porta Dentro al centro della terra Nel mentre c'è una zona collinare Di là ci si abbassa Non si capisce un cazzo Cioè tu guardi St'immagine E noti stranamente Quell'ansia che ti viene Per la quale L'angolazione delle telecamere È leggermente inclinata Di 5 gradi Non sai per quale cazzo di motivo Perché? Perché è tutta la regione Che è proprio inclinata Quindi tu In questo cazzo Di San Francisco italiana In questo cazzo di posto Stai sempre così Sempre Sempre Stai sempre storto Ma questo Ma questo Dio bono Ma c'è l'altro Che è successo? Non ho capito Adesso passa il Pizza Planet Torino Si vede alle grigiume Cosa? È sulle strisce ormai Becille Becille Domenica aperti Eccoci Questo mi è successo 1200 volte Veramente Non sto scherzando Mi è successo Una quantità di volte Ma perché ancora Molte persone Non parlo dei giovani Non sanno ancora come Cioè non sanno Puoi dare E fin qua Ok Ma non hanno proprio L'idea Di come funzionano Le rotonde Le precedenze Che succede? Che cazzo succede? Ah Come è succedendo? Cosa sta succedendo? Vabbè si è sbagliato Poteva capitare a chiunque Contromano In incrocio Nello stop Cioè perfetto Sì ma qui è tutto sbagliato Però c'è qua Non puoi dare la colpa All'autista Del Wow Wow Da sto coglione Da dove cazzo è uscito? Pessa di minchia Ma tamponano leggermente Pac E vola via Fidati Sparisce Ma da No ragazzi Seriamente Ma da dove è uscito? Coglione di Da sto coglione Ma dov'è? Non c'è niente Ma siano deficienti Questo vuole morire Sto coglione Tessa di minchia Coglione di Coglione di Castelsardo Dovinate dove siamo Ma che è successo? Siccome mio nonno Questo sta sbadigliando Mentre ubriaco Come potrà mai finire Ma sei un coglione Un coglione Una coglione Ovviamente Perché la donna sa La donna sa La donna sa E quindi in cuor suo Anche se Anche se non si dovrebbe La donna stessa sa E quindi dice C'è Allucinante C'è bellissimo Tutto ciò Scommetto che era bionda Gorizia Dai porco Dai Conducente che fissa il cellulare Eh però se adesso Tu ti sei messo davanti Come cazzo esce? Che cazzo? Ma è in stato confusionale Un anziano Sta facendo la spesa Da sette ore Ha tirato un bestemmione Talmente forte Che ha vibrato l'audio Se sono rotte Le casse della macchina No tu sei Tu sei un motociclista Devi stare zitto Dovresti finire nei campi E andartene Tu la strada Non la dovresti neanche vedere Sta zitto Stai zitto Hai torto Basta Chiudiamo il video qui Fine Basta Chiudiamo il video qui Che è meglio Perché mi incazzo Se vedo ste robe Bestiacci Ci vediamo domani Alle 21 e 30 Con Non mi ricordo Cosa c'è domani Però siateci Che ci sia da verte Domani c'è Cosa c'è domani Scusatemi Stasera pizza horror Stasera Domani c'è La cop night Ah con un giochino Che figo Siateci Andrea com'è che si chiama Che lo faccio vedere al volo Tu ti ricordi Il nome del gioco Non ricordo più Che succede Ship of fools Ecco Ship of fools No ho sbagliato a scrivere Ship ho scritto Ship of fools È un gioco Fatto così Sembra essere carino Sostanzialmente si interpretano Questi pesci Giochiamo ovviamente con Andrea È un gioco cooperativo Di quelli Ok Dove devi Difendere la tua nave È un roguelike Da quello che ho capito io E devi cercare Di potenziare Difendere la tua nave Da tutto ciò che Nemici Un tower defense Però allo stesso tempo Roguelike Che hai Devi combattere anche i nemici Quando finiscono sul ponte della nave Sembra carino Un gioco serio Oddio sembra un gioco d'accesso A rivederlo però World Warship Esatto Esatto Su Steam Fatto dal Team 17 Che non c'ha mai Non c'è mai Team 17 ragazzi Sono quelli che hanno fatto Bread and Fred Oppure hanno fatto anche L'altro Valheim Cioè giusto per dire O Blasphemous Eh Mi raccomando No Valheim Era dalla Caffi Steam Vabbè sti cazzo Potete picchiarvi tra di voi Dobbiamo picchiarci tra di noi Quello è l'obiettivo Buonanotte bestiasce Vi voglio bene Grazie per tutto Spero che vi siate divertiti Scappo Le devo portare fuori i cani Che è tardissimo A UG Ciao